ciao a tutti nabbi e nabbi di tubo nubo siamo qui con Frappo e Kiki a portare una nuova rubrica di pocket tournament siamo delle pippe quindi non sarà una rubrica per chi ci conosce ormai lo sa che io sono una pippa e quindi niente ci metteremo a lottare tra di noi e a farvi divertire speriamo e vinca il peggiore se dicesse il peggiore sarebbe più di tempo allora l'r certo ovviamente l'r no non è questo il joystick si è questo ok si è questo lo vedete siamo benissimo scusa se è nabbo o come fuori allora lotta a base o lotta a squadre come vuoi facciamo una lotta a squadre visto che siamo la soli eh tanto scusa allora con la vita aumentiamo? si può per a pomo ah 150 così ci divertiamo di bella abilità no 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 attenzione contro le palote inizio via iniziamo via allora adesso ci vediamo i nostri tre pokemon no 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 va bene vabbè va bene vabbè 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 c'iamo benissimo chiaramente qua noi non ci rilogeremo neanche le mosse visto che sono mesi che non ci giochiamo mi piace Pikachu Allora abbiamo un Frappo con un Pikachu, un Lucario e una Braixen, un Pikachu e un Mewtwo. E adesso dobbiamo scegliere il nostro primo Pokémon. Che è il segreto? Il support, il support. Non mi ricordo niente. Come al solito qua è un po' casuale. Ci sarebbero delle specifiche da controllare ma vabbè se ne siamo ampi e quindi mi piace. Anzi se ci avete dei consigli al riguardo scriveteci nei commenti. Mi sembra che gli amici di supporto mi danno supporto. Chiaro. Chi avrei messo? Io punto su Pikachu. Ah no hai sbagliato. Su 3 hai toppato. Su 3 ho toppato, hai iniziato con Mewtwo. Sì però non vale, tu c'hai i leggendari squadra. Vabbè invece c'hai il Pokémon che mi hanno preferito del Tronamista. Eppure tu ce l'hai. C'è un bel vero. Round one, fight! Pikachu parte carichissimo. Carichissimo Pikachu. Chi sarà il lappo della sedazione? Bah, non si sa. Ma io non mi ricordo niente. Ma non male, tanto potete ricordare. Ma come funzionava? Ah beh certo non te lo dico. Se pure mi ricordassi. Allora ecco. Guarda stilfarme che para. Vabbè è normale. No entrata. Eh questa è una combo. Eh. L'ultima che te ne aveva verata però. che Forstone. Il questo è vero. Come usciamo quasi impossible. Di food del. Are we bene? O怎么 Allora, gioca un. Ah, c'è testa di falando d'unaco. Eh oh babbo. Pico un! Questa è Elia! Ayo! E' il chaos! Non morire, non morire, non morire! Mi togli un cavolo! Di coda, colpo coda! Quello d'acciaio! No, questo è un colpo coda! Eh sì, quello stupido! Allora, ci sono rimasti solo i Pikachu a Kiki! Ah beh! Ti vengono più forti, direi! Che a te? Pikachu Lessler! Lascia il Pikachu originale per ultimo! Ovviamente! Ma di lingua? Allora... Nei dieci! Non è che prendi l'Avras al mare? Vanno tutti al mare tranne noi! Mamma mia! Tanti non parliamo di questo momento che... Qua ho toccato la grande! Non so! Ah, guarda sempre! Ahia! Ahia! Pikachu non mi scopo! Ah, no Pikachu non mi resiste! Dobbiamo fare il Prack! non sapevo mai com'erano gli altri pokemon non mi sapevo mai entrerà mai un ultimate in questa partita? ma chi potrebbe cambiarlo? tu hai scelto il poverone adesso è in campo ci compiamo il piga ciò? ci compiamo il piga ciò? eh beh certo si può fare però perchè li ha spazzo no è un topo tanto la fame galentiere no quelli grandi la crescita naturale ma già sto topo legico troppo cresciuto ma ha preso? è entrato guarda ma va a finirci lo so si ma che sai voi li vedete conto del logo non è un campbellario vediamo si è un cavolo topo no figa dai lucario pena scusate com'è? è triste ma chi? spiegaci si ah no non mi vuole male no 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 ma chi è questo? excellent nooo è un po' spregata era l'ultima è così eh è un po' a screzio chi sceglierà? mmm sono io sono io ma che belli luclis però non è giusto lo sei quindi è tutto personalizzato è maschio non so se online puoi avere il tuo personaggio forse si quindi quello che vedete in basso a sinistra è il tasso ah ah in serio nooo ah 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 a ah che cattireia dai 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 ah i i e Io non sono il progetto del boss No, ma non è entrata a te È entrata la tua Oh, ma basta Ehi, dai Abbiamo lo scontro di male Dai, ce la puoi fare Ovviamente l'out, perché è quella che ha lasciato per ultimo E' il suo main E' main E' main E' mena La polpettina Di fuoco Però ne ricordo Non mi ricordo Sempre la scusa E' l'altro Ma è un'altra cosa Ecco, la faccia di riuscire Certo, per tenereva di scarsa Brava Eh, ma che c'è Cioè, rognoso contro le... La tenera da Vaffanbella E' un mazzo che schiava Ma sei troppo vicino a te Abbiamo mostrato per l'esima volta la nostra superiorità Chiaramente gli concederò in futuro la vincita Certo, basta così anche oggi Ce l'ho presi abbastanza Direi che è più che sufficiente Ci sta pure scaricando il joystick Quindi direi che possiamo salutarci E alla prossima Ciao, ciao a Bettina Senti chi parla Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti